Allora, oggi cosa guardiamo? Ma sì, un po' di mestere. Ma... Ma... Ci sono 100 iscritti? Ciò vuol dire... Che devo fare subito uno speciale! Io sono Nargap e siamo qui, allo speciale 100 iscritti. Dopo vi farò dare anche un saluto da Minni. E devo ringraziare davvero tutti quanti per i 100 iscritti. Veramente valete ognuno più di un altro. E poi... So, Nargap. Per parte del contributo è stato grazie a lui! Più o meno. Video? Vabbè. Li facciamo. E grazie a lui! Salve a tutti ragazzi. Questo è un video diverso dagli altri due che ho fatto. E comunque oggi ho deciso di sponsorizzare questo canale, Nargap e Minni. Perché, essendo che è un mio amico, sul suo canale ha sponsorizzato il mio, non so in quale di tutti questi video. In quello di Ore Argento. Perché ne ha fatti tanti, 80 video e 96 iscritti. Questo qui sta dall'81 etimo. Io non sento felice, no, sono triste. No, mi dispiace. Comunque ha molti più video di me ed è molto più famoso di me perché guardate gli iscritti in confronto ai miei. Eh, grazie. E niente, volevo sponsorizzarlo perché lui mi ha fatto questo favore che ha sponsorizzato il mio e niente, ho finito il video. Ciao a tutti. Un po' corto, ma vabbè, uno shorts. Grazie, Xebi. Tributo ce l'hanno anche gli Animaniacs, serie che appena ho sentito l'ho subito adorata. Infatti, in questo periodo sto doppiando i loro video e anche se non escono da un po' i video, è anche causa loro. Ma comunque, sono sempre stati una delle mie cose principali piaciute. E niente, ora passiamo alla Minnie. La maggior parte del contributo è stato grazie a Minnie, che ha fatto innamorare qualche utente di questo canale. Dai, guardatela, è carinissima. Come puoi non voler di bene. Ah, Minnie. E ora gli faccio il saluto diretto. Minnie, 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 saluta per i 100 iscritti. Dai, ecca. Dai. Vabbè. A parte gli Among Us lì, faccio una coccolina Minnie. Sei sempre bella. Più o meno. Altri saluti, giusto? Saluto. Albert Fox MC. Remmen Guglielm. Credo che si pronuncia così. Salutare ho anche Stefania Villamania. Anto Carlo. E Maria Immorlano. Se siete venuti in questo video, siete fortunati, perché ho salutato soltanto 5 o 6 persone. Capita. Ma quindi, dunque, che dire? Ho il mio gioco di karate. Oggi sono pure arrivato primo a una gara di karate. E in più, oggi, ho guadagnato 100 iscritti, sì! E vai! Che dire, ragazzi. Io ho fatto tutto. Ora sarete voi a decidere se questo canale potrà andare avanti. Beh, io farò comunque ogni sacco dei video. Grazie al dizionario che mi ha aiutato in questo secondo. Beh, che dire? Anzi, so che dire. Sono Nargaf. Ciao! 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 Ciao!